Siamo qui con il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Signor sindaco, Agrigento, capitale della cultura 2025, quali sono le peculiarità che l'hanno resa capitale della cultura e anche in termini di sostenibilità? Sì, Agrigento, capitale della cultura 2025, è riuscito a ottenerla grazie alla sua storia, 2605 anni di storia, un parco archeologico uno dei più grandi del mondo e il suo centro storico, però naturalmente non è questo che è stato determinante perché anche per ben due volte Agrigento si era candidata con le stesse caratteristiche e aveva perso. L'intelligenza è stata quella di unire l'intera provincia, di portare un patrimonio culturale globale, oltre a Agrigento anche a Lampedusa e all'intera provincia, quindi abbiamo sommato al nostro patrimonio un patrimonio enorme che ha dato proprio filo da torcere anche all'altra città, porto l'esempio dell'Ungria che aveva Orvieto, Assisi e Spoleto che di cultura ne hanno da vendere. E poi anche perché abbiamo cambiato argomento, abbiamo parlato oltre che di cultura, ma anche di accoglienza, di integrazione, di dialogo, di relazione tra le variettine del Mediterraneo. E io penso che in questo momento storico-politico in cui ci troviamo sia stato un elemento fondamentale. A proposito di dialogo, cosa ne pensa di iniziative come questa dell'Associazione Sud sulle comunità energetiche rinnovabili come momento di confronto? Io penso che questo è il futuro. Anche noi stiamo lavorando nel nostro piccolo. Io sto organizzando un censimento dei tetti e dell'Agrigento proprio per poter realizzare gli impianti fotovoltaici. Si sta parlando di comunità pubblico e privato. Noi pubblichi dobbiamo essere i protagonisti al centro, però dobbiamo sicuramente avere accanto a noi tutti i privati e tutti quegli imprenditori che credono in questa avventura. Perfetto, la ringrazio.